Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Ringrazio il collega Zaratti che ha rivolto a tutti noi l'invito a parlare dallo scranno che fu di Giacomo Matteotti e non nascondo l'emozione che forse si evince anche dalla mia voce un po' tremante. Il provvedimento in esame oggi in quest'Aula rappresenta un momento importante per il Paese poiché ci consente di tributare il giusto riconoscimento alla memoria di Giacomo Matteotti, deputato socialista assassinato dall'infamia fascista per la coraggiosa addirittura morale, etica e politica che lo animava e che lo portò ad affrontare consapevolmente la fine pur di non sottacere parole di libertà in nome del popolo italiano. Significativo è che la proposta di legge sia prima firma della senatrice a vita Liliana Segre, testimone in vita degli orrori prodotti dalla dittatura fascista. A lei va il nostro ringraziamento come cittadini, parlamentari e forza politica per il suo instancabile impegno nel ricordare quella immensa tragedia umana che furono le leggi razziali e i campi di sterminio nazisti. Seppure in un Paese in cui la memoria storica non è sufficientemente condivisa da tutte le parti politiche, pensiamo al 25 aprile oppure al primo maggio, la figura di Giacomo Matteotti si staglia sopra molte altre ed appartiene al pantheon dell'Italia democratica e repubblicana. È una figura che non solo merita quanto stiamo ora approvando, ma che soprattutto meriterebbe di essere ancora di più conosciuta e il suo pensiero divulgato alle giovani generazioni per l'incredibile attualità che lo contraddistingueva e lo contraddistingue. Quasi fosse una sorta di nemesi storica, l'eco delle parole di Matteotti riecheggiano fino ai giorni nostri e ci invitano a riflettere su diversi temi che animano il dibattito politico italiano, spesso avvelenato da tifosi pronti a tutto pur di sostenere le regole della propria scuderia e quasi mai interessati ad elevare la discussione su altri piani, dove albergano ragionamenti politici nell'interesse di chi ci ha votato e dei principi che troviamo nella nostra Costituzione, ma che spesso colpevolmente dimentichiamo per strada. È utile, utilissimo, anzi rivisitare il suo pensiero ed appassionante ascoltare le sue parole quando si scagliava con ineguagliata e ficcante vehemenza contro le derive autoritarie del potere che si appropria delle istituzioni anziché servirle ed occupa manu militari con onnivora e atavica fame ogni postazione della vita democratica. Quando? In perfetta solitudine esprimeva tutta la sua contrarietà ai conflitti, qualunque essi fossero, ritenendo un dovere morale, oltre che politico, quello di opporsi a soluzioni che non contemplassero come via preferenziale quasi obbligata il dialogo fra i popoli e le nazioni. Oppure quando, nel suo ultimo e celebre discorso, quello che gli costò la vita denunciava nella sagralità di quest'Aula, senza timore di intimidazioni e dimostrazioni muscolari di una maggioranza tracotante che di lì a breve si sarebbe trasformata in regime, il tentativo di sovvertire l'esito delle elezioni democratiche, modificandone il risultato. Ecco perché, per queste ragioni e per molte altre, il suo pensiero e la sua figura rappresentano un ammonimento per le vicende storiche che viviamo e un modello di etica politica a cui ambire. Per noi, che ci adoperiamo ogni giorno nel compito difficoltoso di rappresentare le esigenze delle comunità che ci hanno eletto, per i cittadini e le cittadine di questo Paese disabituati ad interessarsi della vita della res pubblica, spesso per colpa di una politica distante anni luce dalle esigenze della base. Per i nostri giovani, ai quali dobbiamo trasmettere il coraggio e la consapevolezza di non sentirsi mai sudditi e sempre protagonisti del cambiamento impositivo che possono e devono consegnarci con la forza delle loro visioni del futuro. Ma tornando a Matteotti e alle meritorie attività e traiettorie politiche ed istituzionali che portò avanti e di cui ancora adesso conosciamo troppo poco, chi era questo eminente personaggio? Fu uomo dai tanti interessi, eccezionalmente poliedrico e sensibile ai fenomeni sociali e politici, colto e raffinato nell'eloquio e nei ragionamenti legati al mondo della politica che conosceva molto bene, avendo attraversato tutta la trafila istituzionale che lo aveva portato ad essere prima consigliere comunale e sindaco ed ancora consigliere provinciale e deputato, un'ascesa che lo condurrà a divenire segretario del Partito Socialista Unitario. Un impegno, il suo, che si consumò anche come sostenitore del movimento cooperativo e come organizzatore dell'associazionismo, giurista di talento impegnato negli studi penalistici, giornalista, dirigente sindacale che bene aveva intuito il valore del lavoro e la sua centralità nell'alveo di una società moderna e aperta verso nuove conquiste per i lavoratori e le lavoratrici. Proprio oggi, dunque, durante questi lavori mi si consenta, forse indegnamente, ma da parte mia, con grande trasporto e rispetto, di ricordare un breve periodo del discorso che il 30 maggio del 1924 consegnava Giacomo Matteotti alla storia. Voi dichiarate ogni giorno di volere ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo. Se siete ancora in tempo, altrimenti voi sì, veramente, rovinate quella che è l'ultima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere la nazione divisa in padroni e sudditi. Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di saperseli correggere da sé medesimo. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità. Il prossimo anno saranno cento gli anni dalla scomparsa di questo gigante della democrazia. Una ricorrenza importante che deve servirci come esempio e come monito. Viviamo tempi incerti e difficili, dove la paura di non riuscire a farcela, la paura delle straordinarie diversità che esistono nelle nostre società ormai multiculturali e multirazziali. La paura di una sostituzione etnica non possono prevalere sulla forza della speranza legata all'inclusione, alla libertà di essere ciò che si è, al desiderio di pacificazione e di dialogo tra popoli, perché sono queste le basi della via maestra per celebrare la vita umana nella sua pienezza, con coraggio, senza dimenticare che siamo tutti figli della lotta e della resistenza antifascista. È per questo che come Movimento 5 Stelle voteremo convintamente a favore del provvedimento che istituisce le celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti.